Benvenuti! In questo video tratteremo uno dei monumenti più misteriosi mai costruiti. Machu Picchu. L'hai mai visitato? Raccontaci la tua esperienza. Machu Picchu è un sito archeologico situato in Peru, sulle Ande, a circa 80 km a nord-ovest di Cusco. Il sito è stato costruito dagli Inca intorno al XV secolo, durante il periodo dell'impero incaico, ed è stato scoperto solo nel 1911 da un esploratore americano di nome Iran Bingham. Machu Picchu è considerato uno dei siti archeologici più importanti e affascinanti del mondo. È stato costruito su una collina a circa 2430 metri sopra il livello del mare, ed è composto da numerose terrazze e edifici in pietra. Le costruzioni sono caratterizzate da una tecnica di taglio della pietra perfetta e sono disposte in modo tale da creare un insieme armonico con la natura circostante. L'origine e la funzione esatta di Machu Picchu sono ancora oggetto di dibattito tra gli archeologi. Alcuni credono che il sito fosse un santuario religioso, mentre altri sostengono che fosse una residenza per l'imperatore inca o una fortezza difensiva. Tuttavia, sembra che la città sia stata abbandonata poco dopo la conquista spagnola dell'impero incaico. Machu Picchu è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1983 e attira visitatori da tutto il mondo. Tuttavia, negli ultimi anni il sito ha subito un aumento del turismo e del traffico pedonale, che ha portato a problemi di conservazione e alla necessità di misure di gestione del turismo per preservare il sito per le generazioni future.